Ehi, ovviamente voglio che tu ed Emily veniate con me. Oh, assolutamente. Sì, ovviamente. Accidenti, parlami! Ma fammi il piacere. Oh, tu caccia! Sì, sai, tu accettavi questo lavoro prima che ho accettato la tua invitazione per andare in con te. Tu caccia! Tu es fatigué? Oh... Oh... Vuoi partire? Non, non... Non, non... Non è un tipo di fisico, è diverso. Hai desi a y repensi? Potremmo. Non ti puoi s'y réfléchire, tu sai? Tu sei molto accomodabile. Non, non, non... Non, non... Ok... Non, non... Où vittu? Tu vittu? Tu vittu. D'accord.